Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Oggi volevo parlarvi di un tema un po' più soft, dato che si stanno avvicinando le feste di Antale, quindi Gedia, Natale, Santo Stefano, Capodanno, e quindi volevo aiutarvi con queste feste parlando sempre del mio tema, cioè come non commettere reati durante le feste. Però prima che proceda alle esaminazioni di questi reati vi chiedo un like a questo video, se vi piacciono i contenuti che offre questo canale, di seguire il canale, per comodo di sostenere questo progetto comunque ancora agli inizi, ma che spero che vi accompagni ancora un bel po' nel corso della vostra vita e nel disaminare tutte le questioni un po' più giuridiche, un po' più complicate che ci vengono sottoposte tutti i giorni anche dai programmi televisioni. Torniamo a noi. Alzi la mano chi non si è mai ritrovato a casa di amici a cercare nel portafogli le monete per giocare a tombola. Eh sì, parlavo proprio con te che stavi per alzare la mano e che sicuramente non l'hai fatto perché o ti saresti sentito scemo ad alzare la mano nel mezzo della tua camera vuota, oppure eri in un luogo pubblico e quindi non ti volevi far vedere mentre alzavi la mano da qualcun altro, che non capiva perché la stessa alzava ovviamente. Allora, in questo caso, come in tanti altri, la buona fede è evidente, nessuno vorrebbe commettere un reato o rischiare un'incriminazione. Però si potrebbe rischiare un'incriminazione a tutti gli effetti, con tanto di procedimento, indagini, spiacevoli conseguenze, le lungaggini del procedimento, la sentenza, il chiamare un avvocato, le parcelle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come si può evitare di commettere un reato durante le feste di dentale? Prima di tutto, c'è da dire che non c'è una norma effettiva che vieti di giocare in casa a carte puntando dei soldi. Però dovete ricordare che bisognerebbe dichiararli, altrimenti si potrebbe incorrere nel reato di evasione fiscale. Però non dita a nessuno che ve l'ho detto, è soprattutto un tema molto più complesso di così, la sto buttando a ridere, ma è molto più complesso e ne parleremo sicuramente in un altro video, anzi, se volete un video sull'evasione fiscale commentino. Quindi, quando è che sorge un problema veramente rilevante? Sorge un problema rilevante quando il gioco diventa gioco d'azzardo. E il gioco diventa gioco d'azzardo quando entra in gioco il gioco ai fini di lucro. Scusate la ripetizione. Ma quindi quando la vincita o la perdita diventa una vincita o una perdita rimessa quasi interamente o esclusivamente a fattori di aleatorietà. Quindi quando il gioco diventa rischioso, imprevedibile ed ha un esito che non si può prevedere o comunque avere in mente. E quindi un esito incerto. Perché quando giochiamo a tombola non sappiamo fino all'ultimo secondo quasi chi è che farà tombola. Sì, potremmo dire, sì, se la stanno giocando quelle due persone lì, quelle tre persone lì, ma non sapremo mai effettivamente chi è che è più vicino alla vittoria. Perché non sapremo mai il numero successivo che uscirà. Quindi in questo caso quale fattispecie potremmo violare? L'articolo 718 del codice penale che appunto va a punire il gioco d'azzardo e va a punire sostanzialmente chiunque giochi d'azzardo in un luogo pubblico o a partito di pubblico in circoli privati di qualunque specie. Cosa significa di qualunque specie? I circoli privati possono essere le case dove ci ritroviamo con i nostri amici oppure anche le associazioni non riconosciute che hanno bisogno di una tessera per essere riconosciuti. Quindi per entrare, diciamo, in gioco. Quindi si andrebbe a violare questo articolo e quindi si andrebbe a violare il codice penale anche se diciamo che non è una pena veramente grave. La tombolata a casa di amici sembrerebbe però non rientrare in questa fattispecie perché se è una tantum una volta sola diciamo che non è così grave. Però se diventasse un evento ricorrente sistematico potrebbe essere assimilabile ad un torneo in un circolo privato e quindi essere punito proprio in virtù dell'articolo 718 che vi dicevo prima. Invece se non ci sono dei soldi in palio non è mai un gioco d'azzardo. Lo dice proprio il termine. Quindi se si giocasse senza vincite o convincite simboliche saremmo sempre nella legalità. Nessuno potrebbe dirci nulla anche se giocassimo a poker. Però c'è un però. Cioè nel 1995 c'è stata una sentenza sul gioco della tombola. E fa. Non sto scherzando. C'è stata una sentenza della corte di Cassazione a sezione unite non un tribunale ordinario che magari non sapevamo neanche che esistesse un tribunale in quella città lì. Allora la corte di Cassazione afferma che chi volesse passare una serata con i numeri, cartelli o premi sotto mano avrebbe dovuto avere il sì dell'intendenza della guardia di finanza. Altrimenti il gioco sarebbe diventato automaticamente un reato. Pensate un po'. La questione fa quasi un po' ridere perché c'erano dei signori anziani che stavano giocando in un bar a massa e vennero arrestati. Quindi diciamo tutti i processi, il primo grado, il secondo grado, l'appello, quant'altro, perché è stata una vicenda giudiziaria molto complessa, hanno portato sostanzialmente a questa sentenza della corte di Cassazione che ci dice che senza l'intendenza della guardia di finanza non potremmo giocare la tombola. Ora quindi stiamo attenti quando andremo a giocare a tombola e potremmo usare questa chicca durante il pranzo di Natale per far vedere ai nostri parenti che siamo informati sul mondo e che ci teniamo alla nostra fedina penale pulita. Quindi occhio a non finire a giocare a carta al bar o a qualche altro gioco d'azzarro. Però se questo video vi è piaciuto e se vi ha dato una notizia interessante che potete riutilizzare durante tutte le feste di Natale sia di quest'anno che dei prossimi anni mettete un like a questo video e a 30 like uscirà un altro video di questo tipo, cioè un altro reato che potreste commettere durante le vacanze di Natale. Ci vediamo al prossimo video e Buon Natale!